Un film tutto siciliano, girato tra Milazzo, Santa Lucia del Mela e Gualtieri si camminò. Si intitola Malamuri e racconta la Sicilia degli anni 50 e la storia di una giovane ragazza di nome Carmela, protagonista, che lavora nella sartoria della madre. Suo malgrado, Carmelo ritroverà il corpo di un magistrato assassinato dalla mafia e questo la catapulterà al centro di una serie di eventi che la porteranno a conoscere Fausto, giornalista del Corriere della Sera, arrivato da Roma per indagare proprio sull'omicidio. Il giovane porterà una ventata di libertà nella chiusura mentale e culturale del piccolo paesino che colpirà la protagonista, la quale troverà il coraggio di ribellarsi al padre padrone e cercare la sua strada seguendo la sua vera passione. Le scene del film, sotto la regia di Federico Maio, sono state girate presso la sede della Fondazione Lucifero di Capomilazzo. Il nuovo film, che sarà nelle sale a partire dal 28 novembre, parla di una storia d'amore ambientata nella Sicilia degli anni 50, che vuole denunciare il bigottismo e la chiusura mentale di quei tempi. E rispetto anche a oggi, perché fondamentalmente le cose, per certi versi, sono rimaste molto simili a quegli anni. E quindi, magari raccontando una storia molto più estremizzata da questo punto di vista, possiamo anche capire determinate cose della nostra società attuale. Vi aspettiamo il 28 novembre al Cinema Liga di Milazzo. I biglietti li venderemo noi, o comunque tutti quelli di 23esima strada film. Quindi potete rivolgervi direttamente a noi, alla nostra pagina Facebook 23esima strada film e Maison de l'Art, dove troverete anche le prossime date, delle prossime proiezioni. Invitate tutti, parenti, cugini, nipoti, zii, fratelli, amici, marini, mogli. Grazie a tutti, grazie a tutti.